L'intesa sul precariato è arrivata in zona Cesarini nella notte di domenica grazie alla mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo quanto comunicato dalla stessa ministra Azzolina al termine dell'incontro, il concorso straordinario ci sarà, anche se con modalità diverse e non nel mese di agosto. Questo significa intanto che i vincitori del concorso saranno assunti a partire dall'anno scolastico successivo, cioè dal 2021-22 e quindi a settembre per poter coprire le decine e decine di migliaia di posti vacanti sarà indispensabile fare ricorso nuovamente ad incarichi a tempo determinato, incarichi che verranno attribuiti utilizzando le graduatorie provinciali introdotte dalla legge 159 del dicembre scorso. Adesso l'accordo raggiunto dovrà essere rapidamente convertito in una modifica al decreto scuola, in discussione in queste ore al Senato. I tempi sono molto stretti perché la Commissione Cultura deve chiudere i propri lavori entro la giornata di martedì, in modo da consentire all'Aula di esaminare definitivamente il provvedimento a partire da mercoledì 27. Subito dopo si dovrà passare alla Camera che dovrà concludere tutto nella settimana successiva, ma soprattutto si dovranno affrontare e risolvere problemi di non poco conto. In settimana, per esempio, avrebbe dovuto prendere avvio la procedura per partecipare al concorso, per il quale però nel frattempo le regole cambieranno. Cambiamento che dovrà essere recepito da un nuovo bando di concorso o comunque da una modifica formale del bando in essere. Per il momento comunque tutte le parti si dichiarano soddisfatte dell'esito della vicenda. La Ministra Azzolina dichiara di aver mantenuto fermo il principio che si entra in ruolo con un concorso selettivo, mentre PD e l'EU per parte loro sono soddisfatti per essere riusciti ad eliminare il famigerato test a crocette. Resta il fatto che a settembre ci saranno 200.000 cattedre vuote e non sarà per niente facile riuscire a coprirle tutte. Senza considerare che a settembre bisognerà anche capire in che modo dare avvio al nuovo anno scolastico. Va bene con classi di 10 alunni, ma ci saranno insegnanti in più ad orario ridotto, con orari diversificati, nelle aule o nei teatri e nei cinema come si sta proponendo da più parti? Tutti problemi molto seri e molto complessi che devono essere risolti in fretta perché il tempo è tiranno, mancano solo tre mesi e il rischio di arrivare impreparati è davvero altissimo. Ovviamente su questo noi continueremo a fornirvi informazioni anche perché proprio nel pomeriggio di lunedì 25 riprendono i lavori presso la Commissione Cultura del Senato, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Soprattutto continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, ne daremo conto come sempre.